Questo signore qui è senza una gamba, gli tirano via i soldi, dove andiamo a mangiare? Stiamo chiedendo il nostro, non è che stiamo chiedendo soldi vostri, quelli sono soldi nostri, noi andiamo a versare. Stiamo chiedendo il nostro, abbiamo pazientato un anno e mezzo. No, sono 4 anni, 2 anni. Ma lascia perdere, in questa situazione qua non si può più incollerare. Non lo so io, poi hanno parlato bene il signore, hanno parlato bene. E poi lo sapete anche voi che ha parlato bene, perché c'è una sentenza, rispettatela. A voi, a noi ci chiedete di rispettare le cose, tutto quello che è da rispettare noi lo rispettiamo. Fate la stessa cosa, no? No, vedo che alzaiocchi al cielo, sindaco, noi rispettiamo e fin troppo. Perché è giusto rispettare, quindi fate la stessa cosa. Rispettate una sentenza del Tribunale, basta. Non vi stiamo chiedendo altro. Non passano altri due anni. Quindi dipingi di impegno. La modifica di una cosa. La cosa, se è il caso, faremo la base di bilancio, visto che c'è tempo, tecnicamente. Teniamo giornata. Ok. D'accordo? Ok, grazie. Buon concorso.